L'età moderna, che in età moderna cambia tutto. Prima di tutto l'età moderna non è amica del concetto di cura, e davvero, se sei veramente interno alla logica individualistica, quale è la logica moderna, c'è cura. Ciascuno ha cura di se stesso. Non hai la cura. Certo, hai la cura dei tuoi figli minori, certo, come no? Questo per legge. Ma non sei tenuto ad avere proprio cura di nessuno. Sei responsabile, nel senso che rispondi delle tue azioni davanti a due istanze, entrambe impersonali. Cioè qui abbiamo una responsabilità, che tra l'altro è un concetto che non è tra quelli centrali dell'età moderna, ma è una responsabilità disincarnata. Comunque molto strana. Una responsabilità priva delle persone. Sei responsabilità davanti alla propria coscienza, se vogliamo dire così, che non è precisamente una persona, o una responsabilità giuridica davanti alla legge. E la legge non è una persona. con una importantissima aggiunta da fare, che secondo le logiche della modernità, le leggi sono fatte da un rappresentante dei cittadini. Per cui sei responsabile davanti a una legge che in via mediata ti sei fatto tu. ho detto due cose. In metà moderna abbiamo due entità che coinvolgono la responsabilità, non davanti alle quali si è responsabile, che coinvolgono la responsabilità. lo Stato e il mercato. Davanti allo Stato la responsabilità sostanzialmente, questa volta sì, si traduce in obbedienza. Obbedienza alle leggi. Ecco, la responsabilità è la colpa. Tu sei responsabile vuol dire tu sei colpevole. Chi è responsabile dell'omicidio tal dei tali? Abbiamo un processo e arriviamo a una sentenza. Quello è il responsabile. Mercato. Sono rovinato. Perché sei stato truffato? No, ho sbagliato un investimento. Beh, amico, il responsabile sei tu. Delle tue azioni, responsabile sei tu. Non venire a chiedere la nostra solidarietà, la nostra cura. La vita è dura, non lo sapevi? Se ti sbagli, paghi. Se sbagli davanti alla legge, vai in galera. Se sbagli investimenti, finisci sull'astro. Ecco. A essere individualisti? Oh, individualisti vuol dire a mettere la libertà individuale davanti, come perno dell'esistenza. Per cui tutto ciò, io ve l'ho detto nel modo più sgradevole possibile, ma è lo stesso che dire, in età moderna, tu non consenti a nessuno di definirsi responsabile per te. Tu rivendichi la tua propria responsabilità per te stesso. Tutto ciò, ve l'ho detto nel modo più sgradevole, ma se ve lo dicevo in modo gradevole, vi dicevo, in età moderna, nessuno si prende cura di te. Cioè, nessuno ti dice, guarda che sei diventato eretico e questo, siccome io devo aver cura di te, mi costringe a bruciarti su un rogo. No, no. Ti lasciano fare la tua eresia e pagherai eventualmente le conseguenze davanti a te. Capito la differenza che io la posso dire in modo libertario, la posso dire in modo catastrofico, ma sto dicendo sempre la stessa cosa, la responsabilità sostanzialmente svanisce. Come vi dicevo, non è un concetto portante dell'età moderna. Per forza, l'età moderna è al tempo stesso fondata sull'individualismo, cioè la individualità libera, e la ricerca del massimo di impersonalità possibile nelle relazioni umane. Per cui si cerca di non obbedire a un uomo, ma di obbedire alla legge. Si cerca di non dipendere economicamente da una persona, cioè di non essere un cliente, nel senso romano del termine, ma di essere indipendenti economicamente, cioè si cerca di essere imprenditori di se stessi. all'interno di regole, meno ce n'è, meglio è, di regole che possono essere fatte osservare dai poteri pubblici anche con grande durezza, ma che sono regole impersonali. Tu non ti prendi cura di nessuno, nessuno si prende cura di te. E la responsabilità equivale alla coppa. Del resto, attenzione, fa parte della nostra Costituzione, che è una Costituzione moderna, il concetto che la responsabilità penale è personale, nessuno si prende cura di nessuno. Detto in un altro modo, libertà, uguaglianza e fraternità, quelle che funzionano sono libertà e uguaglianza. Quelle alle quali riusciamo a dare un valore, un significato, una modalità di funzionamento, sono libertà e uguaglianza. Poi non ci riusciamo, ma insomma, quelle intorno alle quali, almeno formalmente, costruiamo le nostre Costituzioni, sono libertà e uguaglianza. Fraternità. Se fraternità è un prendersi cura, cioè come avrebbe dovuto fare Caino di Abele, noi non troviamo la parola solidarietà messa lì in Costituzione, ma insomma il nerbo delle nostre istituzioni non è fondato sulla solidarietà, ma sulla libertà e sull'uguaglianza. Ora, sostanzialmente, questo vuol dire che la responsabilità è il rispondere di se stessi. Io rispondo di me, rispondo di quello che dico, faccio, penso e non ho nessuna intenzione di rispondere di altri che vadano al diavolo. questo è il paradigma moderno. Perché ce lo siamo inventati così? Ma non è che ce lo siamo inventati, beh, questo è la secolarizzazione di uno dei concetti fondamentali dell'etica cristiana, cioè del libero arbitri. se noi siamo all'interno di una logica di libero arbitri, cioè esiste l'inferno, esiste il paradiso, poi a un certo punto hanno inventato anche il purgatorio. esiste l'inferno, esiste il paradiso e c'è un giudice infinitamente giusto che ti manda o all'inferno o in paradiso, vuol dire che tu sei responsabile di quello che fai. Se no, è follia e noi non pensiamo a Dio come a un sistema di follia e al di là come a un universo di follia. Allora, se tu sei responsabile, cioè tu sei dotato di quella qualità misteriosissima che si chiama libero arbitrio e tant'è vero che se aveste studiato il catechismo come si faceva ai tempi miei, sapreste che perché ci sia perché ci sia peccato mortale ci vuole materia grave e vabbè, piena avvertenza e deliberato consenso. Piena avvertenza, cioè capisco bene quello che sto facendo e deliberato consenso. Lo voglio veramente fare. Se insieme alla piena avvertenza e al deliberato consenso c'è la materia grave, allora c'è il peccato mortale e vai all'inferno e te lo sei meritato. Non è illogico. Non è illogico. Qui siamo nell'antigiobble. Non è illogico. L'età moderna dice bene, prendiamo il libero arbitrio, togliamo il fatto che dobbiamo obbedire a qualcuno che sta fuori di noi, alla autoritas, e ciascuno è autorità a se stesso. Basta. Sappiamo da sempre che gli esseri umani sono dotati di libero arbitrio e quindi che vadano e vivano liberamente. Vivere liberamente vuol dire non curarsi più, non esercitare più cura verso i propri simili e curarsi soltanto di portare a casa la pelle dalla quella guerra permanente che è il mercato e di stare attenti a non infrangere le leggi dello Stato. E la responsabilità in questo senso è certo, è collegata alla libertà e al tempo stesso alla colpa. non è un'obbligazione è un obbligo. In che cosa si differisce? basta che prendiamo un famoso libro, il libro di Ruth Benedict, famosissimo, Il Crisantemo e la Spada che è un libro sulla cultura giapponese che questa antropologa americana ha scritto per i servizi segreti americani durante la seconda guerra mondiale per spiegare alle autorità come era fatto il nemico. E il libro di una grandissima penetrazione socio-psicologica spiega che la differenza di fondo fra noi e loro è che per noi noi nasciamo all'interno dell'idea di un peccato personale un peccato sovrapersonale peccato originario che ci spinge a commettere peccati personali ci rende quasi impossibile non commettere peccati personali mentre invece là c'è l'idea di una obbligazione senza colpa e senza peccato cioè per il fatto che sei al mondo hai degli obblighi verso la catena degli antenati obblighi dei quali non ti potrai mai liberare inespiabili devi vivere secondo determinati parametri e stili di vita perché sì perché a ciò ti chiamano gli antenati in una catena di cui l'imperatore è il simbolo vivente l'imperatore discende direttamente attraverso una discendenza fisica dalla luna questa responsabilità senza colpa è l'essenza della cultura giapponese mentre noi vabbè abbiamo l'idea del peccato originale di cui ciascuno di noi è privo di colpa però quell'idea serve a spiegare il fatto che noi commettiamo colpe sempre e di quelle rispondiamo nessuno di noi risponde del peccato originale nessuno di noi risponde delle colpe singole cioè dei peccati come si dice attuali ora noi con questo modo di ragionare di responsabilità non le troviamo tanta non a caso prendiamo diciamo così per chiudere questa parte l'età moderna da questo punto di vista presenta un aspetto curioso se noi prendiamo il pensatore che più di ogni altro interpreta fonda la modernità politica cioè Hobbes voi siete abituati a pensare che lì ci sia la descrizione di uno stato di natura in cui ovviamente non c'è nessuna responsabilità ciascuno pensa a se stesso ma oltretutto non ci riesce a pensare a se stesso perché è una situazione di instabilità radicale e quindi la vita è miserabile brutale e breve è angosciosa e poi invece c'è lo stato fondato da noi stessi attraverso il patto razionale di tutti con tutti perfetto lo stato dove la vita è stabile e dunque si campa perché quello che capitava nello stato di natura non capita più cioè la violenza indiscriminata non capita più bene ma dal punto di vista della responsabilità manca la responsabilità dello stato di natura ovviamente ma anche dentro lo stato come lo chiama Hobbes lo stato civile non è che c'è la responsabilità lì c'è la legge ma la legge che in modo assolutamente moderno e per noi assolutamente ovvio la legge non ci chiede responsabilità non gliene importa niente la legge della nostra responsabilità importa la nostra obbedienza proprio solo questo ci viene chiesto non ci viene chiesto di prenderci cura di niente di nessuno ci viene chiesto di obbedire alla legge puoi essere un cittadino che non incontra mai un problema legale nella sua vita ed essere un cittadino che non si interessa non si assume alcuna responsabilità per nessuno solo per se stesso e basta non sto dicendo che è lecito infrangere la legge sto dicendo che il minimo è chiesto che è anche il massimo è non infrangere la legge non devi voler bene a nessuno non devi prenderti cura di nessuno allora siamo attenti perché tutto ciò è come forse state capendo è l'essenza profonda tanto dello Stato quanto del mercato scavando le logiche dell'uno e dell'altro si arriva a questo però invece è un grosso però però così non si vive e dopotutto non c'è nemmeno una legittimità cioè è molto difficile obbedire delle leggi che si presentano in questo modo individualistico barra meccanico molto difficile e allora molto presto molto presto l'età moderna produce dei sostituti di Dio molto presto produce dei sostituti del medium della divinità cioè delle nozioni grazie alle quali i cittadini possono e devono mettersi in contatto gli uni con gli altri uscendo dall'individualismo e quindi sviluppando ecco quello che attraverso l'individualismo non si sviluppa cioè sviluppando responsabilità quali sono queste due sono tante ma insomma volendo ridurre all'osso queste nozioni che si vengono a sovrapporre rispetto a questo schema così rigido così meccanico la nozione di nazione e la nozione di rivoluzione ecco voi vedete prima ma poi insieme in realtà e questo sotto il profilo politico il grande evento è la rivoluzione francese lì lì c'è da una parte l'inverarsi di tutti i presupposti politici della modernità cioè la distruzione dell'autorità la distruzione del prendersi cura la distruzione dell'idea che ci sia qualcuno che ti deve obbligare per il tuo bene e per il suo bene a qualche cosa cioè la distruzione dell'idea che tu non sei responsabile di te stesso da una parte e dall'altra c'è l'idea immediatamente che tu sei certamente sei un uomo libero responsabile di te stesso certo ma al tempo stesso sei immerso in un ambiente in un contesto in un'entità che ti trascende rispetto alla quale siete tutti uguali non c'è uno più in alto di un'altra un'entità che ti comprende e ti trascende rispetto alla quale ebbene lì sì che deve scattare una responsabilità che è molto più che obbedire a una norma di legge è una responsabilità sentimentale emotiva esistenziale questa entità è la nazione la rivoluzione francese la fa libera gli individui ma la fa la nazione e basta leggersi proprio il libriccino di C.I.S sopra che cos'è il terzo stato ci sono gli individui che lavorano e sono i protagonisti della vita associata della vita sociale ma stanno tutti dentro questo soggetto la nazione la nazione non si presenta come nazione la nazione si presenta come società dove c'è il mercato si presenta come stato e qui non devi avere delle responsabilità nel mercato ti arrangi nello stato obbedisci soprattutto perché le leggi dello stato le fa un'assemblea rappresentativa e poi c'è un meta livello che è la nazione la nazione non ti dà ordini normativi però non penserai di essere di poter essere irresponsabile davanti alla nazione se la nazione ti chiama dovrai rispondere se la nazione ti chiede dovrai dare corso alle sue richieste ecco c'è qualche cosa che ti trascende e Dio no non è più Dio è la nazione e la rivoluzione che in questo caso vanno insieme nazione e rivoluzione ma insomma la rivoluzione non nazionale ma di classe sarà allo stesso titolo un'entità che ti trascende e che ha il diritto di farti domande e di esigere da te delle risposte non delle norme ma delle domande esistenziali che possono essere dov'è tuo fratello oppure dove sei tu nel momento della lotta mortale tra il bene e il male questa entità superiore è un'entità che parla alla tua coscienza mentre la legge dello Stato non parla alla tua coscienza parla al tuo intelletto le leggi del mercato non parlano alla coscienza non c'è mai dubbio parlano le leggi del mercato parlano all'utile alla tua brama di utilità e invece e dunque non c'è responsabilità né in un caso né nell'altro e invece la parola di queste entità superiori si rivolge alla tua coscienza e qui entra in gioco il tuo dovere di rispondere se non rispondi non commetti un reato no sei solo un verme cioè non hai consistenza umana sei un'astrazione l'astrazione del cittadino obbediente alla legge l'astrazione dell'uomo che nel mercato guadagna o perde gli uomini le donne gli esseri umani sono naturalmente responsabili verso qualcuno verso qualcosa non come la cultura giapponese non si sa perché per il solo fatto che sono al mondo no no qui c'è una situazione di emergenza di pericolo pericolo costante siamo chiamati continuamente a a una qualche azione la marsigliese ci dice no allarmi cittadini eh quegli altri ci dicono su fratelli su compagni e qui e qui si si tratta di rispondere di essere responsabile a questo punto sei responsabile di te stesso verso la tua coscienza ma sei responsabile di te stesso verso questa entità superiore la patria la classe e a tempo stesso sei anche responsabile concretamente verso i tuoi amici compagni camerati oltre la legge oltre gli obblighi di legge con una obbligazione che va al di là bene non a caso se andiamo a leggerci il libretto Aureo pubblicato da Max Weber nel 1919 la politica come professione dove ci sono appunto queste due logiche tematizzate la logica della responsabilità che è la Ferenfvortrichheit può più rispondere e la logica della convinzione del convincimento iberzoico bene se andiamo a leggere questo libretto noi vediamo che Max Weber che difficilmente si sbagliava dice la logica della responsabilità è sostanzialmente un calcolo cioè consiste nel cercare di prevedere i risultati delle tue azioni ti comporti secondo le logiche di Giobbe che dice insomma un minimo di razionalità a questo mondo se io sono stato un uomo per bene perché vengo punito in questo modo ti comporti come l'uomo che vive dentro le logiche del mercato che dice beh io ho investito top soldi in titoli al 4% perché non mi date i frutti che mi spettano ti comporti come il cittadino ligio alle leggi freddo nell'anima ma ligio alle leggi che dice beh io non sono passato col rosso perché mi fai la multa oppure io cerco di non passare col rosso perché calcolo le conseguenze e sono responsabili in questo senso calcolo le conseguenze delle mie azioni e questa è la logica della responsabilità risposta super moderna da parte del super moderno Max Weber poi dice a fianco di questa c'è la logica della convinzione che è tutta altra cosa la logica della convinzione è agire in modo irresponsabile senza calcolare le conseguenze perché perché sei pazzo no perché in realtà ti senti talmente responsabile verso una istanza che pensi di di avere un dovere assoluto di seguire ciò che quella istanza ti chiede senza badare alle conseguenze sei un fanatico sei un eroe sei un martire quello che vuoi hai delle idee a cui sei disposto a sacrificare per le quali sei disposto a sacrificare ti sei capace di compiere atti esterni le logiche della utilità e la logica della responsabilità nel senso moderno in realtà come vi dicevo sono due logiche che producono comportamenti diversi ovviamente tra l'altro per Max Weber l'uomo politico deve averle tutte e due queste logiche deve essere capace tanto di calcolare gli effetti delle proprie azioni quanto quando è il momento e naturalmente chissà quando è il momento tanto capace quando è il momento di battere il pugno sul tavolo e dire io da qui non mi muovo poi nessuno è mai capace né dell'una né dell'altra cosa perché sono troppo difficili ma insomma bisognerebbe essere capace di entrambe le cose in generale si può dire che possiamo adoperare questi concetti tra l'altro anche per distinguere la destra dalla sinistra nel senso più vasto del termine la destra in realtà è l'idea che si deve essere responsabili verso qualche cosa che trascende il nostro utile e interesse e che è questo qualche cosa è continuamente minacciato e dunque siamo costretti a essere responsabili per salvare dalla minaccia questo bene superiore la sinistra al contrario pensa che si deve essere responsabili verso un'idea che è minacciata un'idea di umanità che è minacciata non sempre è minacciata una volta sola da determinate circostanze a causa di determinati assetti sociali ed economici rimossi i quali la nostra responsabilità si scioglie nella pacificazione mentre la destra ha un'idea di responsabilità che sconfina col convincimento cioè militante dobbiamo difenderci dal nemico che è sempre inanguato la sinistra ha un'idea di responsabilità più logico razionale perché ci dice che in determinate circostanze ci si deve si deve combattere ma questo combattimento non è fine a se stesso né è il destino dell'uomo che deve sempre combattere contro un nemico è un combattimento che ha un fine e una fine dovrebbe avere una fine un'idea un'idea di